Buongiorno, sono Francesco Piemontesi e con il cognome che porto all'estero vengo spesso annunciato come il pianista italiano piemontesi. In realtà io vengo dalla parte più bella della Svizzera che è il canton Ticino. Per un paese di dimensioni così ridotte e con degli stati limitrofi così grandi è spesso difficile farsi sentire in un contesto internazionale. D'altra parte la Svizzera ha sempre giocato un ruolo molto importante nella diffusione culturale a livello europeo e da questo punto di vista mi sento molto felice di essere una specie di ambasciatore culturale per il nostro paese e sono molto onorato di ricevere questo premio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.